buonasera ragazzi stasera facciamo la prova della carbonella di quercia autoprodotta vediamo l'abbiamo messa in mezzo vedete sotto abbiamo fatto un letto di legnetti e vediamo come procede ecco vi faccio vedere come procede si sta accendendo la carbonella abbiamo messo pochissimo ecco il che scintillina la fa ora vediamo che forte beh però non è male questi sono i legnetti che stanno finendo ora poi vi faccio vedere quando diventa proprio carbone carbone e la carbonella è pronta e la carbonella è pronta Grazie a tutti.